Vi ricordate il video che vi ho portato circa due settimane fa sul canale in cui vi spiegavo come ho acquistato tramite questa lista sul sito di girata.it il mio Note 8 nuova di zecca? Ebbene, dopo quel video mi avete chiesto in tanti, soprattutto in privato, su Telegram, il cui link è sempre qui in descrizione, di fare un video sulle funzioni dell'S-Pen per capire se effettivamente conviene acquistare questo Galaxy Note 8 o no. Ebbene, oggi vi apporterò tutte le funzioni dell'S-Pen, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e passiamo subito al terminale. Bene ragazzi, eccoci passate al terminale. La prima funzione di cui vi voglio parlare ovviamente è quella più famosa, ossia di quando si estrae pur a schermo spento la S-Pen dal nostro Note. Il Note ci permette di prendere note per un totale praticamente di più di 999 pagine intercambiabili da questa freccetta qui in basso, il che ci permette praticamente di salvare la nota appunto nell'applicazione Note oppure semplicemente di andare a salvarla sul Always On Display. Infatti in questo caso ci chiede di bloccare la nota sull'Always On Display, andando a cliccare su Blocca, la nota ci verrà ricordata in tempo reale ogni volta che blocchiamo il display. Questa cosa è molto importante per chi ovviamente come me ha una memoria molto a breve termine e di conseguenza magari prende a volo un'informazione che deve ricordare delle a breve, un impegno delle a breve e di conseguenza è davvero una cosa molto molto utile. Passate alla registrazione schermo, in modo tale che potrete vedere tutti meglio quel che faccio con la S-Pen, la prima cosa che si può fare è creare una semplice nota nell'applicazione che troviamo praticamente già preinstallata, Samsung Notes. Ovviamente io non preferisco diciamo questa applicazione per una serie di informazioni che adesso andrò a farvi vedere. In ogni caso possiamo creare una nuova nota. La nuova nota ci permetterà di essere praticamente scritta sia con testo sia con penna. Ovviamente ad aumentare dello spessore della pressione sullo schermo, aumenta lo spessore della linea. Il testo viene riconosciuto in maniera molto egregia, se io scrivo ciao, ovviamente ci scrive ciao in maniera molto molto particolare. Poi c'è l'opzione pennello, ossia l'opzione pennello ci permette per l'appunto di scegliere tra una vasta gamma di colori e di addirittura scegliere anche il pennello che stiamo operando, con la dimensione della linea e l'opacità dell'ultima. E andare quindi a prendere note di questo genere. La seconda impostazione è S-Note. S-Note lo vediamo all'ultimo perché è quella più importante. Ovviamente c'è l'impostazione vedi note e poi c'è l'opzione selezione intelligente. Tramite questa selezione intelligente possiamo creare una GIF oppure tramite praticamente una selezione a rettangolo o lazo ovale possiamo praticamente selezionare una porzione di schermo. Questa porzione di schermo la possiamo condividere, possiamo estrarre del testo, addirittura possiamo bloccare su schermo il che significa che possiamo salvare un'informazione prese da Google, un numero di telefono o quant'altro e fare altro nelle impostazioni in modo tale da permetterci di riuscire a selezionare sempre da questa informazione qui riducendola addirittura anche ad icona nel caso in cui ci serve più spazio, tutte le informazioni a noi necessarie. Ovviamente questa impostazione può essere anche, ecco qui, salvata in galleria qualora lo screenshot fosse di nostro gradimento. Altre cose che si possono fare, sempre dalla selezione intelligente, è creare una GIF. Questa GIF praticamente, come potete vedere adesso dalla impostazione che ci è uscita, ci permette di registrare quello che facciamo sullo schermo e anche la qualità. Tornando in un mio video, possiamo vedere come la funzione che prima vi ho richiamato di selezione intelligente per creare una GIF si può utilizzare tranquillamente per una cosa del genere. Infatti, creando su animazione intelligente, spostiamo il tutto sul mio faccione, faccio registra, adesso sta registrando però appunto una clip in cui mi dice in tempo reale anche i mega della dimensione della clip, clicco su arresta ed ecco qui che adesso si è creata una piccola GIF che posso andare a condividere o addirittura a disegnarci su questa mia faccione, poi faccio anteprima ed ecco che ho un disegno sulla GIF. Andando a continuare a vedere le impostazioni, quello che si può fare è la scrittura a schermo in cui praticamente il telefono fa uno screenshot di quello che c'è sullo schermo e possiamo scegliere poi sempre qui tra varie impostazioni di pennelli, matito e evidenziatori e andare a scrivere per praticamente qualcuno, qualche informazione, qualche freccia, selezionamento di qualcosa e così via. Possiamo ovviamente poi decidere di scartarla, di salvarla o di condividerla. Altra informazione molto interessante è la riduzione ad icona, quindi praticamente se io clicco qui e poi apro questa pagina e poi faccio riduci ad icona, l'applicazione viene flottata qui in basso quindi posso fare una qualsiasi altra cosa, non so per esempio andare in questa applicazione se io mi sposto con la S Pen qui sopra senza toccare, mi fa vedere quella che è la pagina posso andare comunque a scrollare il tutto tranquillamente e comunque appena allontano la S Pen dall'icona, il tutto torna nell'applicazione precedente se clicco ovviamente qui, dice passate l'S Pen sulla miniatura per passare alla visualizzazione dell'altra schermata, a schermo intero ovviamente se tengo premuto qui, posso cancellare quella che è la flottanza altra impostazione molto interessante è la traduzione quando c'è un testo in inglese o i messaggi live, ovviamente la traduzione non funziona solo col testo in inglese praticamente se andiamo su internet, notizie in inglese, news se io clicco praticamente sul tasto traduci, lascio la S Pen qui la riconosce la parola e mi dice news significa notizia molto bene, ultima impostazione è il messaggio live messaggio live che ci permette praticamente di selezionare uno tra questi effetti selezionare la spessore della linea, selezionare il colore e scrivere per esempio ciao sono guido una volta fatto questo possiamo decidere di andare a vedere come funzionerà poi la nostra gif una volta condivisa e condividerla in tempo reale cliccando su fatto infatti cliccando su fatto esso la renderizzerà e potremo decidere se condividerla o meno in questo momento la sta salvando l'animazione è salvata in galleria e quindi adesso ce la fa vedere possiamo cliccare sul tasto qui in alto per condividerla passando infine all'ultima grande cosa che utilizzo personalmente sia nel mondo del lavoro che nell'università è S-Note S-Note non è pre-installata all'interno del Samsung Galaxy Note 8 nel momento in cui si acquista quest'ultimo ma dovete scaricarla dal Galaxy Store quindi cliccando su S-Note come potete vedere si apre praticamente una schermata molto simile alla precedente in cui però il tutto si può dividere per categorie per community e addirittura la cosa molto utile è che si possono importare file PDF e sincronizzare con Evernote in modo tale che ogni nota che io prendo qui si sincronizzerà direttamente anche sul mio computer cosa molto fondamentale perché quando vado ad importare un file PDF per esempio non so, queste slide quando importo delle slide del genere poi voglio che prendendo appunti non solo a lezione il tutto me lo ritrovi anche in tempo reale sul PC qualsiasi sistema operativo esso sia ovviamente Evernote esiste e quindi tengo tutto sempre aggiornato come funziona poi S-Note? a parte il fatto di poter prendere note facciamo finta di voler modificare questo PDF aperte e chiusa parentesi c'è proprio un'app WriteOnPDF sul note che quando praticamente scaricate o cliccato su un PDF vi chiede se volete aprirla con quell'app per scriverci su ma non vi da tutte le impostazioni che vi da S-Note nel caso in cui vogliate prendere delle note fatte per bene cliccando su modifica ecco qui che entro in questa schermata in cui posso fare davvero davvero tante cose ovviamente posso scrivere su una nota posso scrivere qualsiasi cosa modificarla e quanto altro zoomando praticamente sulla nota posso far sì per esempio di cliccare su questo tasto per dire modalità riconoscimento della forma io se faccio così esso la riconoscerà e mi darà una freccia e io qui poi posso scrivere quel che voglio ma come faccio a scrivere qui in un tratto così piccolino allora clicco su questa impostazione che si chiama nota ingrandita cliccando infatti su nota ingrandita porto la nota qui posso scegliere anche la dimensione del mio tutto ecco qui come si zooma il testo e clicco per esempio sulla penna a me preferita per esempio clicco sulla penna stilografica con dimensione 10 cliccando qui scrivendo qui ecco qui che si scrive in piccolino ciao addirittura posso scrivere tutta la nota che io gradisco senza andare a scrivere sullo schermo direttamente che sarebbe più difficile posso addirittura anche scrivere in maniera molto piccola su quelle che sono le impostazioni di pdf come potete vedere funziona davvero alla perfezione se io vado a zoomare ecco qui che c'è tutto quel che ho scritto quindi ovviamente il riconoscimento della forma funziona per qualsiasi tipo di forma e ci permette addirittura anche cliccando per esempio qui sul ovale di andare a selezionare questo quadrato che ho appena disegnato e ci permette di aggiungerci proprietà spostarlo o ingrandirlo addirittura come potete osservare da queste animazioni per me non esiste nulla di più perfetto per prendere note lo uso davvero tanto in classe funziona alla perfezione inoltre c'è la gomma anche questa funziona tra varie impostazioni non sto qui a delencarvel altrimenti durerebbe troppo come potete vedere cancella bene il tutto per cancellare un'impostazione di questo genere la selezionate e cliccate su elimina e poi altra cosa molto interessante è il fatto che un pdf si riesce a modificare in maniera egregia e anche non so a sottolineare pur se il pdf è crittografato come potete vedere in questo caso per esempio il pdf è crittografato ma io riesco tranquillamente ad evidenziarlo ovviamente se aumento lo spessore del mio evidenziatore non devo far 50 passate ne faccio una e quindi funziona tutto davvero davvero molto bene il tutto poi posso decidere di salvarlo o addirittura seppure è un pdf posso incredibilmente cliccare su aggiungi pagina e quindi interporre tra la pagina che ho prima modificato una pagina vuota e la pagina successiva una pagina bianca per prendere le note che il professore non so scrive a lezione un qualcuno al lavoro dice senza voler scrivere perfettamente nel pdf quindi una sensazione davvero straordinaria di potere per quanto riguarda le impostazioni di modifica del pdf posso anche cliccare qui su aggiungi aggiungere non so un'immagine eccola qui scegliere dove modificarla dove salvarla una volta deciso dove salvare posso scegliere non so questa pinna aumento il tratto e posso addirittura andare a modificarla al suo interno aggiungerci cose al riguardo posso anche cliccare su inserisci foto e fare una foto lì al momento al momento in cui c'è una slide un esperimento un qualcosa che mi interessa salvare ovviamente in questo caso io non salvo che mi serve per l'università ma queste sono tutte le impostazioni che potete andare a creare oltre che a inserire registrazioni vocali e scriverci note sopra o testo inserito dalla S Pen bene ragazzi siamo giunti alla fine di questo video spero di essere riusciti a spiegarmi bene di avervi fatto vedere tutto quello che si può fare con la S Pen o comunque in maniera abbastanza veloce spero di essere riuscito a farvi capire la potenza di questo strumento strumento che è dato soltanto sul mercato dal Note 8 e che non troverete in nessun altro terminale dunque se vi serve un telefono di questo genere che riesce a fare queste cose trovate solo lui come sempre il video dunque finisce qui spero che riuscite a lasciare un bel pollice in su col vostro click del mouse destro per sovvenzionare quello che è il mio canale e di iscrivervi se non l'avete già fatto ci vediamo al prossimo video ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao